Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi parliamo di scrittura. Ho deciso di condividere con voi quali sono i passi che io faccio quando scrivo un romanzo. Infatti il 2020 mi ha vista concludere la stesura del mio ultimo romanzo, del mio secondo romanzo e quindi so che tra di voi ci sono diversi aspiranti scrittori o scrittori che hanno bisogno di qualche piccolo consiglio su come procedere con il lavoro. Mi scrivete spesso e quindi ho pensato che potrebbe essere interessante per voi sentire come io abbia effettivamente nella pratica lavorato a questo romanzo dal primo all'ultimo giorno, quindi da quando è arrivata l'idea a quando il romanzo era finalmente concluso. Vi dirò quindi i 10 passi che io faccio per creare il mio romanzo però ci tengo a dire prima di tutto che questo è il modo in cui lavoro io quindi non deve essere per forza seguito alla lettera anche da tutti voi magari comunque potreste trovare utili dei piccoli trucchetti che io utilizzo. Inoltre ci tengo anche a dire che questo non è il modo in cui io lavoro sempre semplicemente per questo romanzo seguire questi 10 passi mi ha aiutata a portarlo a termine in maniera più che soddisfacente. Quindi vi racconto come ho lavorato. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Numero 1. Trovare un'idea. Ovviamente per scrivere un romanzo bisogna partire da un'idea. Nel mio caso non ho un grande consiglio da darvi nel senso che l'idea di solito arriva all'improvviso. In questo caso sicuramente è stato così anche se l'idea all'inizio è veramente molto basilare. In questo caso avevo solo una protagonista e un luogo dove volevo ambientare la storia. Il resto sarebbe venuto dopo. Ma sono partita da lì, da un'idea molto semplice, molto spicciola e ho scritto il primo capitolo. Numero 2. Scrivere la trama. A questo punto io di solito dopo aver scritto il primo capitolo comincio ad avere un'idea molto vaga di trama. È ovvio che i particolari dettagli, le sfumature verranno fuori più avanti. Però mi è tornato molto utile buttar giù un'idea di quella che voleva essere la storia da raccontare. Quindi un'idea dei personaggi, un'idea di quello che volevo accadesse loro e un'idea di finale. Di solito non mi discosto molto da questa idea primordiale. Nel senso che sì, la sviluppo andando avanti con la scrittura e magari anche leggermente la trasformo. Ma tendenzialmente non mi allontano troppo perché quella è l'idea che mi è venuta è quella l'idea nella quale ho creduto e quindi ci credo fino alla fine, ecco. Numero 3. La scrittura dei capitoli. Il lavoro prosegue scrivendo i vari capitoli che soprattutto per la prima parte io scrivo semplicemente in base all'ispirazione del momento perché sto creando quelle che sono le basi del romanzo. Quindi i personaggi, le varie situazioni, i luoghi, le caratteristiche di ogni personaggio. Insomma comincio a delineare il mondo che voglio raccontare. Di solito dopo la scrittura di ogni capitolo lo rileggo almeno una volta in modo da correggere gli errori e da imprimere bene nella mia mente quello che ho raccontato perché poi sarà quello su cui mi baserò per il capitolo successivo. Può succedere che mentre scrivo i vari capitoli mi vengano in mente dei dettagli o, non so, delle situazioni che vorrei mettere in scena nei capitoli successivi. Ecco, anche in questo caso ritorno all'inizio del mio foglio di lavoro perché scrivo tutto al computer e mi appunto una scaletta con tutte le idee che ho ma che non posso effettivamente mettere per iscritto in quel momento perché magari riguardano capitoli successivi. Via via vado a rileggere quelle idee in modo da accertarmi di ricordarmi di loro e metterle nei punti giusti. Numero 4. Definire i dettagli. Ovviamente andando avanti con la stesura del romanzo si arrivano a creare tante situazioni che da una parte incastrano lo scrittore nel senso che nel momento in cui abbiamo definito un certo tipo di personaggi oppure un certo periodo storico è ovvio che non ci possiamo discostare da quello che abbiamo raccontato fino a quel momento e tutto deve mantenere una certa coerenza. Per questo è importante fare molta attenzione ai dettagli come ad esempio l'anno storico nel quale è ambientato il romanzo oppure l'età dei personaggi o la stagione nella quale si svolge una determinata scena e così via. Più il romanzo diventa corposo e più c'è la necessità di tornare indietro e ricontrollare che tutto torni, che tutto quadri. Numero 5. La rilettura Ogni tanto sento la necessità di rileggere il lavoro che ho fatto dal principio quindi non solo l'ultimo capitolo scritto questo mi aiuta ovviamente con la memoria perché ci sono dei dettagli che potrei dimenticare visto che di solito per scrivere un romanzo impiego mesi se non anni a volte quindi insomma ho bisogno di ricordare dei dettagli che ho scritto precedentemente e in ogni caso mi permette anche di rientrare all'interno della storia magari dopo un periodo in cui non ho scritto molto. Un consiglio che vi do è quello di non far mai passare troppo tempo senza scrivere perché sì ci sono dei periodi in cui siamo più impegnate quindi abbiamo meno tempo da dedicare al nostro libro però se dovessero passare troppe settimane o troppi mesi si rischia di dimenticare quello che abbiamo scritto e quindi sarà più difficile rientrare all'interno del lavoro e riprendere con il ritmo giusto. 6. Creare un programma dettagliato Da metà lavoro in poi io so già o comunque per questo romanzo sapevo già dove volevo arrivare quale sarebbe stato il finale quindi ho cominciato a fare un programma più dettagliato dei vari capitoli mi sono proprio scritta il numero dei capitoli con il riassunto di quello che volevo raccontare al suo interno questo mi permette di avere un programma da seguire ma soprattutto avere una visione un pochino più completa del romanzo concluso. 7. Fissare un termine Fissare che cosa scrivere in ogni capitolo fino alla fine mi permette di avere un'idea chiara anche di quando ho intenzione di terminare il lavoro quindi a quel punto comincio ad organizzare il mio lavoro in maniera un pochino più regolare quindi magari decido di scrivere un tot di ore a settimana oppure di scrivere almeno un po' tutti i giorni seguo il mio programma con un po' più di rigore perché so che voglio arrivare alla fine entro una certa data e questo mi dà una mano anche per incentivare il lavoro e velocizzarlo dopo aver passato tanti mesi in cui mi dedicavo più alla creazione e quindi mi prendevo il mio tempo. 8. Rilettura finale Dopo aver finito il romanzo mi dedico ad una lettura lenta e accurata di tutto il romanzo in questo caso quindi riparto dal principio leggo tutto lentamente per notare eventuali ripetizioni parole scritte male o discorsi che magari grammaticalmente non tornano tanto perché può succedere chiaramente di avere qualche svista e rileggo tutto anche per controllare che la trama torni da ogni punto di vista a volte mi faccio aiutare appuntandomi una linea temporale per controllare che gli eventi siano nella posizione giusta ed abbiano una coerenza altre volte invece mi vengono in mente dei piccoli dettagli che dovrei curare più avanti nel romanzo e allora mi scrivo dei post-it nei quali mi metto bene in evidenza che cosa devo notare quando arriverò in quel determinato punto. Insomma questa è diciamo la fase finale del mio lavoro perlomeno per quanto riguarda la stesura del romanzo perché è il momento in cui tiro un po' le fila e controllo che tutto il lavoro mi soddisfi. Numero 9. La stampa Secondo me è molto importante a un certo punto smettere di leggere il libro sul computer e renderlo tangibile quindi ritrovarlo proprio su carta ecco perché io, questo l'ho fatto per tutti i romanzi che ho scritto lo faccio stampare in una copisteria e poi do il manoscritto ai miei parenti quindi a mio marito e alla mia famiglia in modo che loro per la prima volta leggano la mia storia questo non solo mi permette di sapere se la storia gli piace se pensano che il romanzo valga la pena di essere pubblicato ma mi aiuta anche nella correzione di nuovo di qualcosa che potrebbe essermi sfuggito la revisione del romanzo è una cosa che occupa sempre molto tempo e soprattutto io mi sono resa conto che ogni rilettura in realtà fa emergere qualche piccola correzione da fare è ovvio che a un certo punto bisogna anche accettare il lavoro come abbiamo come è ecco senza dover prolungare la rilettura o la correzione troppo a lungo però sicuramente un occhio esterno che non conosce la storia vi darà una grande mano per capire quali sono i piccoli punti critici ecco perché io faccio leggere il romanzo a tutti i miei familiari i quali insomma non solo si godono la storia o almeno me lo auguro ma sottolineano anche tutte le cose che secondo loro dovrei correggere o migliorare alla fine quindi mi ritrovo con diversi manoscritti con diversi appunti che poi sui quali insomma dovrò poi lavorare numero 10 la correzione finale ecco quindi che con l'aiuto delle persone che hanno letto la mia storia do un'ulteriore rilettura al mio romanzo in modo da aggiungere le correzioni che loro mi hanno suggerito eventualmente se le ritengo corrette e in generale insomma ricontrollare tutto il mio lavoro perché voglio che sia il più perfetto possibile per quanto possibile ovviamente per poterlo poi presentare alle case editrici quindi qui si conclude il mio percorso di scrittura perché poi dopo mi dedico all'invio del manoscritto alle varie case editrici perché venga pubblicato bene ragazzi questi sono i 10 passi per la scrittura di un romanzo o almeno come faccio io come ho fatto io per il mio ultimo romanzo e devo dire che lavorare così per me è molto utile mi ha portata ad ottenere un risultato che io considero ottimo mi piace molto credo molto in questo libro quindi insomma spero di vederlo presto chiaramente anche nelle librerie fatemi sapere se i consigli vi sono risultati utili se voi avete dei consigli per me magari qualcosa che vi torna molto utile per la stesura di un romanzo e che pensate potrebbe tornare utile anche a me io vi ringrazio se siete degli iscrittori vi faccio un grande in bocca al lupo per le vostre pubblicazioni e noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao